ci accingiamo ora a calcolare questa semplice trave incastrata con un doppio incastro con il momento in mezzeria ci si propone di determinare le reazioni vincolari e quindi di tracciare i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione interna eventuale sforzo normale taglio al momento. Allora è una trame ipestatica per poterla risolvere possiamo ricorrere al metodo delle equazioni di congruenza e cioè degradiamo i vincoli per esempio da vincolo triplo a vincolo doppio come può essere una cerniera e applichiamo però sui vincoli le reazioni relative al vincolo che abbiamo soppresso quindi il vincolo per esempio che impedisce la rotazione che è qui in un momento in a m con a in b m con b bene dobbiamo allora scrivere che in a la rotazione deve essere zero imponiamo questa condizione e in b la rotazione deve essere zero. Queste sono le due equazioni di congruenza che aggiunte alle tre equazioni cardinali della statica consentono di risolvere il sistema di equazioni connesso alla struttura e in effetti vedremo che queste due equazioni possono essere risolte prima e i valori che otterremo li inseriremo poi nelle tre equazioni cardinali della statica avendo determinati valori di m con m e m con b. Questo schema possiamo dividerlo in tre schemi per semplificare le operazioni. Un primo schema caricato solo col momento m che chiamiamo schema 0. Un secondo schema caricato solo col momento incognito m con a ed è lo schema 1. Infine un terzo schema caricato solo col momento m con b che chiamiamo schema 2. Il primo schema si deforma in questo modo come è facile immaginare perché il punto c tende a rotare in senso orario. Quanto valgono le rotazioni in a in b? Ciò aiutiamo con un prontuario. Il prontuario ci dirà che la rotazione è la n b vale m per l su 24 volte i in una trara incastrata doppio incastro con un momento in mezzeria. Però attenzione la luce del prontuario è prevista a prontuario l. Qui nel nostro caso è 2 volte l quindi dovremmo aggiungere qui l per 2. Il che ci consente anche di semplificare di scrivere m per 2 su 12 volte i. Senso della rotazione antioraria quindi negativo. Allora queste due equazioni diventano fico a dallo schema 0 più fico a dallo schema 2. Tutto questo è 1 a 0. E' un argomento per il punto b. Dunque fico a dallo schema 0 varrà meno m per l su 12 volte i. Dallo schema 1 la deformata della trara è questa. La rotazione in a sarebbe m con a per l su 3 volte i come da prontuario se la luce fosse l ma la luce è 2l quindi dovremmo aggiungere per 2. Antiorario semia negativo o meno. La rotazione in a dovuta al fi con b e la rotazione è anch'essa antioraria o deformazione di questo tipo e quando vorrebbe varrebbe m con b per l su 6 volte i se la luce fosse l ma la luce è 2 volte l. Possiamo anche semplificare quindi avremo meno m con b per l su 3 volte i. Tutto questo è 1 a 0. Passiamo al punto b. La rotazione in b per effetto di m è identica che nel punto a. Quindi qui la rotazione in b varrebbe m per l su 6 volte i se la trara fosse di luce l ma di 2 volte l la luce. Semplificando avremo rotazione all'area più m per l su 3 volte i. in questo caso invece la rotazione varrebbe m con b. Attenzione questa m è m con a. In questo caso la rotazione sarebbe m con b per l su 3 volte i se fosse di luce l la trara per me 2 volte l quindi rotazione all'area più. Bene possiamo andare avanti facendo le semplificazioni e i può andare via. Moltiplicando prima il secondo membro per i e si elimina tutto questo. Dividiamo anche i denominatori per 3. Quindi qui abbiamo 4. E la l può essere eliminata. Lo abbiamo. Anche qui secondo le equazioni eliminiamo i. Dividiamo tutto per 3. Dividiamo tutto per l. Quindi bene è un sistema di due equazioni. Delle due incognite m con a e m con b può pertanto essere risolto aggivalmente. Per esempio con il metodo di Kramer oppure con il metodo di sostituzione per esempio prima equazione possiamo risolvere rispetto a m con b. questo valore lo andiamo a sostituire qui. Quindi possiamo scrivere. E dunque avremo che m con a è uguale a meno m quarti. Questo è il valore di m con a. Questo valore lo andiamo a sostituire della prima equazione. Quindi queste equazioni diventano. Questo è l'altro valore che cercavamo. Il segno più ci dice che m con b ha un verso corretto. Per quanto riguarda m con a il segno bambino ci dice che il verso di m con a non è questo ma è bensì il verso opposto. Questo verso 3. Quindi in definitiva possiamo anche dire che il nostro schema di calcolo diventa questo. dunque due momenti naimbi sono tutti e due orari. Vogliamo verificare se questa cosa è congruente con il nostro esercizio. Guardiamo un attimo la trave a due incastri con il momento in mezzeria orario. Si può immaginare come era deformata dalla trave. Se il punto è ceruto in senso orario la deformata sarà una cosa di questo genere. Che cosa osserviamo? Che qui all'estremo b dove c'è l'incastro le fibre tese sono sopra. Quindi la reazione dell'incastro presumibilmente avrà un senso orario. Nel punto a le fibre tese sono qui sotto. Quindi la reazione dell'incastro avrà anche in questo caso un verso di rotazione orario. Quindi i due versi di rotazione dei momenti incogniti m con a e m con b che valgono i miei quarti sono corretti, cioè congruenti con quella che era deformata presunta della nostra trave. Ma a questo punto possiamo ricorrere alle equazioni della statica, cardinale della statica per determinare le altre reazioni vincolari. e le altre reazioni vincolari diamo un termine, indichiamole genericamente con y con a e y con b, x con a e x con b. Quindi scriviamo le equazioni, il sommatore della x è uguale a 0. Il sommatore dei momenti rispetto al punto, per esempio, è uguale a 0. Allora, x, forse orizzontali non ce ne sono, né d'altra parte le due reazioni presunte x con a e x con b, essendo sulla stessa letterazione, non possono dar luogo ad un momento che possa equilibrare i momenti applicati a m, m, a, m e b. Dunque le x con a e x con b sono 0, sono nulle. Passiamo alla seconda equazione. Allora, possiamo scrivere che y con a più y con b è uguale a 0. Non ci sono altre forze verticali. Passiamo all'equilibrio alla rotazione dei momenti. Per esempio, rispetto al punto a, allora, x con a, abbiamo detto che non esiste, y con a non dà momento perché si trova proprio nel punto a, deve essere il momento m con a, quindi potremmo scrivere m con a, ma anche, dobbiamo considerare il momento m, c'è anche il momento m con b, e il momento prodotto da y con b, che è meno y con b per 2 volte m. Tutto questo deve essere uguale a 0. Vediamo un attimo questa equazione. m con a è un valore noto ormai, quindi è m quarti più m più m con b, ancora m quarti, meno y con b per 2 volte m. E questa è quindi l'equazione che possiamo risolvere facilmente rispetto a y con b. Quindi, andando avanti avremo, questo è il valore di y con b. Il segno positivo vuol dire che il verso che abbiamo scelto è quello giusto. quindi y con b vale 3m su 4 volte l. E questo valore lo andiamo a sostituire nella seconda equazione. e vediamo cosa otteniamo. Valore negativo, questa forza va verso il basso. Il suo valore è sempre 3 volte m su 4 volte l. Quindi, che vuol dire questo? Che le due reazioni, y con a e y con b, creano un momento, una coppia, no, creano una coppia antiorare. Quindi un momento antiorario che mi equilibria i momenti applicati m, m con a ed m con b. Bene. Detto questo, potremo anche procedere al disegno dei diagrammi della solicitazione interna. m con a. e le reazioni verticali y con a e y con b. Beh, proviamo a tracciare il diagramma del taglio. Fondamentale, linea fondamentale. Quanto vale il taglio in a? Vale il valore di questa reazione. E negativo, perché se esaminiamo un concio qui, sulla sinistra la forza va verso il basso. Sulla destra, per l'equilibrio, va verso l'alto. Dunque, senza antiorario, taglio negativo. E quanto vale il valore? Il valore è proprio questo. 3 volte m su 4 volte m. Ma quando ci spostiamo verso destra, non intervengono altre forze taglianti. Quindi il diagramma sarà costante per tutta la lunghezza della trave. Ed è tutto di valore negativo. Passiamo al diagramma del momento. Allora, vediamo quanto vale il momento in amia con a. E il momento in amia con a è proprio questo. M quarti. Sono tese le fibre di sotto. Quindi riportiamo qui il valore. M quarti. Andando avanti, che cosa succede? In questo momento, che tende le fibre di sotto, verrà, a questo momento si contrappone il momento prodotto da y con a, che tende le fibre di suga. Quindi tenderà a diminuire. Diminuirà con legge lineare, perché non ci sono carichi distribuiti, che danno una variazione invece di tipo parabolico. E allora, come possiamo procedere? Vediamo di calcolare il momento del punto c, però immediatamente prima del punto c. Cioè, come si dice, il momento del c a sinistra. Il punto c. La cosa sarà data in questo momento? Da m con a che è m quarti. Meno y con a che è per l. Quindi m quarti meno. E questo è il valore nel punto c a sinistra, negativo. Quindi vuol dire che lo dovremo inserire questo valore nella parte superiore del diagramma. Per esempio qui. Nel punto c, immediatamente a destra, e quale sarà il valore? Sarà questo, meno m con i mezzi, più m. Quindi, più m mezzi. E allora, inseriremo qui. Nel punto b il momento varrà m quarti e orario, quindi tende le fibre di sopra, e sarà questo, m quarti. E allora, non ci resta chiunire i punti. Ed ecco il nostro diagramma del momento. Che è perfettamente congruente con la deformazione della trave incastrata, con il momento in mezzeria, che è una deformazione di questo tipo. Ricordando che il diagramma del momento è disegnato dalla parte delle fibre tese, e noi vediamo che, in questo intervallo, le fibre tese sono sopra. In quest'altro intervallo le fibre tese sono sotto. E' così la stessa cosa per quest'altra parte. In corrispondenza dell'incastro le fibre tese sono sopra. In campata, qui le fibre tese sono sotto. Il diagramma quindi è congruente con la deformata della trave. e direi che possiamo anche fermarci qui. Buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti.